Ancora bentrovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Vediamo la sezione del traffico della mobilità in Toscana in questo venerdì pomeriggio. In A1 permangono rallentamenti per traffico intenso verso Bologna tra Calenzano e Pio 1 Variante. Stessa situazione sulla Firenze Mare tra Firenze Ovest e Prato Est per chi viaggia verso Pisa. Ci spostiamo in Fipili per Mangonoco di Attratti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso il capoluogo. In carreggiato opposto troviamo coda in uscita alla Strassigna e rallentamenti per lavori tra Ponte d'Era Est, Bivio, SCC, Fipili, Dinamazione e Pisa. Siamo al traffico ferroviario per guasto agli impianti tra Monte Pescali e Rocca Strada. Il treno 19-121 Siena Grosseto ha maturato mezz'ora circa di ritardo. Moversi di Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.